Superstar a 6 zampe a otturna ad Arezzo Fiere, sabato 24 e domenica 25 febbraio, fiera dedicata al mondo del cane e del gatto, una fiera che promuove la corretta gestione dei nostri amici a 4 zampe attraverso professionisti del settore felino e canino, una manifestazione fatta di persone, animali, eventi, passioni e sport che ci rendono felici ogni giorno insieme ai nostri amici. Alla fiera potrai trovare tutto quello che necessita per il tuo amico, mangi mistica, accessori, trasportini, guinzaglieria, prodotti per la bellezza e tanto altro. Superstar a 6 zampe a otturna ad Arezzo Fiere, sabato 24 e domenica 25 febbraio.